Sì, perché abbiamo una buona notizia, ieri c'è stato comunicato da Agenas e quindi dalla struttura del governo che si occupa di fare il monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR è che la regione Calabria, la sanità della Calabria avrà 29 milioni e 600 mila euro, quindi 29 milioni in più in quanto la Calabria è riuscita a conseguire gli obiettivi fissati al PNRR per l'assistenza domiciliare. Era una cosa che nessuno si aspettava perché si partiva da un ritardo molto considerevole, non se lo aspettavano nemmeno i ministeri affiancanti, abbiamo dimostrato invece che comunicando bene i flussi che in Calabria il governo della sanità sta producendo alcuni risultati che neanche i ministeri affiancanti si aspettavano. Questo grazie all'azione svolta da tutti i commissari e ai direttori generali delle aziende sanitarie che ringrazio molto per il loro contributo e grazie al coordinamento di Azienda Zero perché il tema in Calabria non è solo quello di attrezzarsi per garantire compiutamente come diritto dei calabresi i livelli essenziali di assistenza ma il tema è anche quello di comunicare i flussi, i dati e prima di Azienda Zero e prima dell'impegno dell'ingegnere Miserendino questa attività purtroppo veniva svolta male facendo perdere alla nostra regione tantissime occasioni. Ecco io spero che quello che è successo ieri possa rappresentare un nuovo inizio per la sanità calabrese che merita di avere le risorse necessarie per garantire i diritti ai cittadini di questa regione. Quindi davvero complimenti ai commissari e ai direttori generali e all'ingegnere Miserendino e al commissario di Azienda Zero per il lavoro svolto. Presidente, i fondi per l'alleguamento antisismico degli ospedali, c'è stata una forte polemica nei giorni sforzi di un ministro fitto, lei è fiducioso per il futuro? Ho spiegato al ministro fitto che la rimodulazione del PNRR è un'attività che io condivido nella maniera più assoluta perché bisogna evitare che si disperdano risorse come è successo in passato. Infatti la Calabria è stata tra le prime regioni a firmare l'accordo di coesione accettando il cronoprogramma e le nuove regole che governano la spesa del fondo di sviluppo e coesione e degli altri fondi europei. Ma il presupposto da cui parte fitto in questa ultima rimodulazione delle risorse della sanità è un presupposto per la Calabria sbagliato perché fitto dice che questi interventi sono interventi che le regioni avevano deciso di svolgere con le loro risorse dell'edilizia sanitaria. Non è così per la Calabria perché questi interventi la Calabria non li aveva mai decisi sulla programmazione dell'edilizia sanitaria. Le risorse dell'edilizia sanitaria a noi occorrono per completare i grandi ospedali che i calabresi da troppo tempo aspettano. Una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa dice che il commissario della sanità in Calabria dovrebbe avere strumenti eccezionali e anche risorse eccezionali. È assurdo che le risorse già destinate alla Calabria vengano invece utilizzate per coprire interventi prima previsti nel piano nazionale complementare. Queste risorse a noi occorrono per concludere i lavori oltre che dell'ospedale della Sibaritide per il quale abbiamo già trovato le risorse per l'ospedale di Palmi e per l'ospedale di Vibbo. C'è una crisi della sanità pubblica in Italia che è sotto gli occhi di tutti. Credo sia ingeneroso a scrivere le responsabilità di questa crisi ad un governo che è in carica da un anno e mezzo. I governi precedenti di centrodestra e centrosinistra forse hanno colpevolmente sottovalutato l'importanza della sanità. Episodi di centralizzazione della sanità spesso hanno creato dei disastri come per esempio in Calabria attraverso il commissariamento o come succede in più regioni per le reti ospedaliere che come sapete devono rispettare i parametri del decreto ministeriale 70. Sta accadendo ora che molte regioni stanno vedendo le loro reti ospedaliere bocciate dai ministeri perché non rispetterebbero questi parametri. La sanità merita più attenzione da parte delle istituzioni. Credo che però sia assolutamente ingiusto attribuire responsabilità all'ultimo governo che è un governo che peraltro mi pare che sulla sanità stia trovando più risorse dei governi precedenti. È un'assunzione di responsabilità che tutti dovremmo fare perché nel corso degli anni forse questo problema è stato troppo sottovalutato. Grazie a tutti.